musica 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 buongiorno a tutti salve salve a tutti siamo tornati su minecraft esatto ma quanto è carina quella era vestita da coniglietta era bucciusissima eccoci con le sky wars continuiamo a fare fail come me nella vita anche se prima uno era così nabbo che l'ho battuto no ma poi tra l'altro prima sono arrivata penultima con un tizio ma ci osservavamo e basta a sto punto cioè non potevo fare niente perchè lui aveva le frecce e io non potevo arrivare da lui poi quando arrivo non sembra che stanno spruzzando qualcosa cioè proprio no di no uh siamo in gioco con la coniglietta uccidiamo poverina e vabbè dai le strappero le orecchie la velocità la velocità prima di tutto la velocità prima di tutto allora ho una bella spada e c'ho anche l'arco mi è felice questo si mette in testa ok allora wow boh vi giuro che mi sono buttata senza pensarci se non c'erano le scale sarei morta bruttissimamente però mi sa che c'era qualche altra cosa qua aspetta ma non è che sicuramente c'è qualcosa qui perchè veramente non penso non ci sia non ci sia niente tipo altre casse no no nada nada non c'è nient'altro in queste mongolfine no no è la prima volta che sto in queste mongolfine ehm c'ho 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 la spada e il tizio con la spada mi ha spadato stai saltando? perchè ti vedo saltare ok non c'è niente vai splash dream una preghiera con una preghiera oh mi stavo un attimo scordando le cose prima era andata benissimo ed era off camera c'è benissimo più o meno siamo arrivata seconda ed era off camera adesso facciamo che stiamo registrando tutto male esatto render pirla prendiamo un po tutto va ma c'erano due oppure sto laggando come mai nella vita non lo so ma vedo... vedo nomi porca put... tu stai là peccato che non posso farti cadere non sono io lo so non sto mirando a te sto osservando in giro ma quanto faccio schifo a mirare merda si l'ho notato non ho niente devo arrivare da te no amore eh 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 sta volta oh chi ha vinto? NOOOO perché ho laggato no 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 oh no no il Entra, esce, entra, esce Oh, giù siamo Mi pareva che qualcuno fosse caduto di giù Se la mettiamo dentro Eh, però se non mi date un cazzo per fare un cazzo Un cazzo per fare un cazzo Certo, è una cosa molto Senti, non è l'ora di pezzo arrivato No, stronzo L'ho trovata, era qua dietro Non so, sperare che nessuno mi arriva alle spalle Perché odio quando mi arrivano alle spalle Enderpirla Oppure io ho preso l'enderpirla Però è meglio che mi tengo Eh, pup 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 Devo tenermi sempre la spada Bella selezionata Perché non si sa mai nella vita Io penso che Forse andarsene Per i posti albini qui Merda No, che succede? Ho caduto come uno scemo C'è uno là sopra Nutellino a 0,3 No, che è successo? Ucciso da... Ma come sono uccisa? Come ho ucciso? Non lo so Non lo so Allora 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 Ma in forno a che cosa sei? Ah, è enderpirla In effetti Lì c'è una tizia Però Noi facciamo prima Le cose che dobbiamo fare Ovvero questo, questo, questo Pantaloni Facciamoci un'armatura potente Brutal La spada Qui Chi cazzo è? Vieni qui, vieni qui, vieni qui Vieni qui, vieni qui Ah No, è enderpirle E che cazzo? Perché non ce l'avevo sotto mano? Puttana merda No, ma prima ti giuro Siete arrivati In quattro Sulla mia isola E vi siete ammazzati a vicenda Poi il tizio No, poi l'ultimo tizio E mi ha visto E mi ha E mi ha annientata Come mai nella vita Però Anche se io Cioè Stavo prendendo a spada Dopotutto con le spadate Ancora Stavo tranquillo Bello Come se non fosse successo niente Sta cosa mi ha dato un po' fastidio Però Cioè Non so come cavallo ha fatto Ehm Innanzitutto Prendiamoci Io devo stare attenta Che non ha Per pirola però Che cosa ho fatto Mi sono infilata Nella ragnatella Ma se io L'avevo rotta Cosa mi ha fatto Infilarmi Nella ragnatella Dove Ti arrivano frecce Per caso? No Allora non sei tu? Sto morendo Ok qualcuno L'ho ucciso Qualcuno 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 Mi sta Prendendo Noxie Eh Che cazzo Che è successo? Ma Ma La pianti di cadere All'infinito Ma chi è Che Io Cado all'infinito E vado giustamente E' piccino Perché vedo Che il sole scende E poi risale Come un cretino Sto morendo Perché stai Stando in grado Evidentemente Cazzo Non ci sta un cazzo Insaliamo Io non c'ho una spada Vero? C'ho solo un'ascia E l'ascia Non è la miglior cosa Da avere In questo momento Però ho trovato Una cosa Qui Ah maledizio Come sono caduto Così? Ma cazzo E va C'è solo quattro frecce Non mi conviene lanciare Niente Sono caduto come un pirla Lascia stare Un ender pirla Eh Come un ender pirla Che? Che? Cosa? No C'è già una Ma? Ah che putt Ma ci faccio vedere io A questi Miel c'è Bastardo Miel c'è? Miel c'è? Oh Miel c'è Miel c'è Andrei giù Che è la cosa In questo momento Allora c'è uno lì Non ho altro Mi spiace Non ti posso attaccare In altri modi Ma c'è ora le frecce Sì c'ho 18 frecce Io ci provo Morirò male Ma ci provo Alcuno mi farà cadere Perciò io odio fare questa cosa Perché la gente mi fa cadere Oh Sto aspettando che arrivo Chi è? Chi è? Ah Ammazzalo Ammazzalo No Porca miseria Dai che ti ho Ti vendi Che cosa assurda Cosa assurda Come mai non è morto? Come non è morto? Non potevo uccidere con la nava È morto È morto È morto È morto Ho usato l'enderpeerle In un porto sbagliato Ed è caduto giù Fabio pro gamer Perché sto pro gamer Come nick Lo usano Tipo in 50.000 Perché si vogliono far vedere Che sono pro Ma mettersi pro nel nick È tutto fuorché Dirti che sei pro No ma perché Anzi vuol dire che sei un nabo della madonna No vuol dire che Non c'è assolutamente niente Sto andando alla cazzo di cane Sto andando alla cazzo di cane Lascia Ok c'è una spada C'è una spada Va bene No Eh vabbè C'è una spada Ma dopo tre anni Ah piglie Sta spada è merda Vabbè Non è successo niente Non è successo Non è mai successo Allora Come siamo messi qua Mettiamolo là sopra Che mi ha visto A me che mi guardo bene attorno Ragazzi perché È stato brutalmente ucciso Perché Nonostante tutto Non si sa perché Quando Anche se io inizio a colpirli per primo Muoio per prima io Anche se tengo premuto Tipo Mi sa che il lag Non prende i colpi Allora Lui colpisce di più di me Va bene ragazzuoli Va bene ragazzuoli Mi dispiace per tutti questi fail Ma Io non lo so Cioè Io boh Non so come prendere Ma qui Sono più forti di noi No ma non è che sei più forti Perché io già ti so gli stessi È che boh Non so se la prendiamo stilt Moriamo comunque Se la prendiamo all'attacco Moriamo comunque Cioè Non lo so È lag Boh Non ha molto senso La velocità Cioè la velocità con il quale Si prende Molte volte mi avete visto morire Perché non riuscivo a prendere in tempo la spada Va bene Però tipo Quando due volte sono morta Che lo colpivo Io per prima Non lo so Magari avevano l'armatura di diamante Shoppare Non ne ho idea Vabbè Tonicaku È comunque stoppa Non è di shoppare Sì Dicevo Tonic Vabbè È una cosa in giapponese Che non mi viene in mente In italiano Ad ogni modo Ecco Ad ogni modo Mentre Vedete Lu che gira Nei prati albini Dietro di me Vi ricordo Sono proprio Mi ricordo Di lasciare Mi piace Un commentino Se vi è piaciuto il video Per lasciare I vostri Le vostre Suggerimenti Suggerimenti Ecco I consigli I consigli Non mi veniva la parola consigli Non so perché No Cioè Commentateci Dateci Proponentici qualcosa da fare Esatto Non state sempre a fare Cioè A noi piace sentire le vostre proposte Sentire qualcosa Cioè Fatemi vivi Insomma Perché veramente Vedere che c'è poco e niente Nei commenti È abbastanza Esattamente Vi ricordiamo che abbiamo una pagina Facebook Nel conto Twitter E il canale Telegram E noi In mezzo a tutte queste teste Che sembrano tante decapitazioni Torniamo a saltellare Nei prati albini Ciao Ciao